Il treno straordinario 8-8-3-88, plastici d'Italia 2014, delle ore 15 e 55, proveniente da Catania Centrale, è diretto a Trieste-Campo Marzio, è in arrivo al binario 1. La città è la città, è in arrivo al binario 1. Il treno locale 11-1-1-4, delle ore 15 e 40, proveniente da Calalzo Pieve di Cadore Cortina, è diretto a Ponte nelle Alpi Polpet, è in arrivo al binario 1. Luiare. Stazione di Luiare. Attenzione! Treno in transito al binario 1. Il treno straordinario 8-8-3-88, plastici d'Italia 2014. 2014, delle ore 16 e 10, proveniente da Catania Centrale, è diretto a Trieste-Campo Marzio, è in arrivo al binario 1. Luiare. Stazione di Luiare. Attenzione! Treno in transito al binario 1. Luiare. Attenzione! Treno in transito al binario 1.